Davanti ai conflitti, alle ingiustizie, alle urgenti crisi umanitarie che segnano il nostro tempo, ci rendiamo conto di quanto sia importante per ogni cristiano essere un vero discepolo missionario. Papa Francesco lo ricorda nel videomessaggio inviato al 51esimo congresso eucalistico internazionale di Cebu nelle Filippine. Il pontefice ricorda il suo viaggio nell'arcipelago asiatico dello scorso anno, esalta le qualità di fedeltà e di profonda devozione di quel popolo di missionari che 500 anni fa ricevette il Vangelo e che ha saputo mostrare profonda fede e resilienza dopo la devastazione del tifone Yolanda del 2013. Partendo dal tema del congresso eucalistico, Cristo in voi, la nostra speranza di gloria, Francesco sottolinea come Gesù risorto sia sempre vivo e presente nella sua Chiesa, soprattutto nell'eucaristia, e come la sua presenza spinga ad essere missionari, per portare il messaggio della tenerezza, del perdono e della misericordia del Padre ad ogni uomo, donna e bambino. Al termine del messaggio il Papa annuncia che il prossimo congresso eucalistico si terrà nel 2020 a Budapest, in Ungheria.